In carampo, a cura buto o a no? Dovete sapere, signori, che io ho dedicato tutta la mia vita allo studio dell'occulto e delle scienze esoteriche. Esoteriche. Cosa è scienza, che è merda. Cose fondamentali. E al termine di questo lungo e faticoso cammino di studio e di ricerche, a cui ho dedicato gli anni migliori, ho incontrato lui. Luigi! Scusate, sono molto nervoso. Ma lui chi? Il maestro, colui che con le sue potenti arti occulte, più di chiunque, più dello stesso merlino, si è avvicinato al motore immobile. Che ricazzate. Prego. Niente, signor Barone. Dicevo che era esistibilmente affascinante questo motore immobile. Eh beh, sì, affascinante, però, se mi permette, signor Barone, un pochettino difficile. Certo, signori, dimenticavo che voi siete cinematografari, ed è appunto per questo che vi ho cercato, affinché attraverso la magia dello schermo, anche la plebe possa conoscere le infinite virtù del conte e onorarlo nei secoli dei secoli. Amen. Ero sicuro di potere contare su di voi, amici. Ero sicuro di potere contare su di voi, amici. Corriremo! C'è un morso, le cose, le cose, le cose, le cose, le cose, le cose, le cose. Me bene. Entra e fuori! Entra e fuori, capanno feto! Eh, ma no, no! Non è una patrice dei barocchia con inutenza! E' mea! Non lo capisce che c'è che non ho spinto! Ma quale spinto c'è che non ho spinto? Ho spinto dall'orso! Che ho vinto qua! Mi sto fatto i mani fuori! Ma che pare fanno le corna! Figlio le burra! Oh figlio! Non lo capisce che! Non l'ho da me sicuro! Non lo capisce che non lo capisce! E' un po' fanno insieme! Apreciate! Fanno scherzo sotto loro! È vero! Ma ecco su! Oddi gli scerzi, glaci ne faccia! Una cosa è certa signori Signori, dovremmo trovare un attore all'altezza della situazione, una vera star. Voi avete già in mente qualcuno?